Il Network Nazionale della Biodiversità è un sistema informativo sulla biodiversità del territorio nazionale che nasce dalla condivisione di specifiche banche dati, secondo metodi e standard definiti, attraverso un sistema a rete che ne garantisce il popolamento continuo. I dati di monitoraggio sono resi disponibili per finalità di ricerca scientifica e di pubblico interesse. Attraverso la piattaforma è possibile accedere anche ai principali flussi di dati che l'Italia raccoglie nel rispetto di alcune direttive comunitarie, come la rete Natura 2000 e le direttive Habitat, e sulla conservazione degli uccelli selvatici. L'ISPRA, suo incarico dell'attuale MITE, gestisce l'infrastruttura tecnica sin dal 2013 e nel corso degli anni ne ha curato l'implementazione giungendo ad un sistema interoperabile, rispondente alla direttiva INSPIRE, in grado di fornire dati aperti anche in LinkedIn Open Data. Attualmente il network vanta 13 milioni di record di osservazioni di specie sul territorio e 64 banche dati condivise dai 18 partner della rete. Il sistema è uno dei principali strumenti a supporto della Strategia Nazionale della Biodiversità e consente il censimento e la diffusione di dati ed informazioni utili all'organizzazione di iniziative di divulgazione, comunicazione, educazione e formazione in tema di biodiversità, comprese le attività di Citizen Science sviluppate in ambito SNPA.